Musica E allora iniziamo questa carrellata dei ponti di Chioggia e ponti che come abbiamo visto purtroppo sono tutti quanti con grossi problemi allora un particolare che non avevamo scritto l'altra volta che quando sono stati fatti i lavori per la realizzazione del Baby Mose quindi del Canal Vena, Baby Mose che ha assicurato ricordiamocelo sempre la tranquillità alla città di Chioggia al centro da 4 anni preservandole dalle acque alte quindi noi assolutamente siamo grati a chi ha fatto quel lavoro perché comunque la città è rinata però in quel periodo era previsto qualche consigliere comunale nuovo potrebbe cominciare a informarsi anche su queste cose era previsto per quanto riguarda i lavori che i ponti, non sono sicuro di questo di San Domenico ma sono sicuro per quanto riguarda i ponti di Canal Vena che sarebbero stati dovuti ristrutturare e risistemare ed erano stati fatti degli appositi capitoli all'interno dei quali c'erano le somme per restaurarli in pratica che fino hanno fatto quei soldi? ripeto, i nuovi consiglieri comunali potrebbero iniziare a chiedere a fare le loro interperlanze e chiedere ai vari dirigenti se questi soldi ci sono ancora, se ci sono magari sperduti nel meandro del bilancio comunale oppure sono stati utilizzati per altre finalità questo non è un ponte storico di Chioggia ma comunque è un ponte che è stato utilizzato era nato per quando sono stati fatti i lavori nel ponte dei Cavanis per garantire la passeggiata dell'usenzo poi era di competenza del magistrato delle acque il magistrato delle acque poi l'ha lasciato al comune di Chioggia e questa è la situazione che vedete in questo momento e ovviamente non è proprio il massimo della sicurezza guardate i vari punti questo qua è solo per ricordarlo sempre anche agli amici della nuova amministrazione che faranno bene a guardare un po' tutte queste situazioni allora qua il ponte della Cucagna detto così, della Cucagna l'abbiamo già parlato qualche sera fa avete visto che ci sono diverse posizioni di criticità è sempre uno dei ponti che avrebbe dovuto essere restaurato al momento della situazione è questa qualcuno, non vogliamo fare terrorismo ma qualcuno teme proprio che ci siano dei grossi problemi di staticità la notizia positiva della giornata è che la porta Garibaldi proprio questa mattina l'hanno ripulita dall'erbacce ricordiamo sempre che c'è stato un genio sicuramente un scienziato termonucleare della sovrintendenza che a suo tempo durante la seconda amministrazione Guarnieri e non è responsabilità dell'amministrazione Guarnieri forse della prima, forse sbaglio hanno fatto togliere la copertura tutte le porte che ci sono nel Veneto hanno la copertura e la sovrintendenza di Venezia che sono dei scienziati termonucleari intelligenti, ben pagati tra l'altro hanno preferito toglierla allora abbiamo fatto una carrellata dei ponti diciamo di Chioggia in particolare quelli di Canalvena allora i ponti di Canalvena che da come potete vedere da immagini sono tutti da ripigliare perché tutti quanti hanno bisogno di essere restaurati alcuni anche di interventi anche importanti tutti questi ponti c'è un accordo di programma e sono stati, almeno ci dicono fino a prova contraria dovrebbe essere così sono stati a suo tempo finanziati quindi ci dovrebbero essere addirittura i fondi ed era previsto sempre nell'ambito dei famosi lavori che sono stati fatti nei Canalanela per il Bebimose che non è stato solo per quanto riguarda la realizzazione delle paratoie quelle appunto per salvaguardare il centro storico di Chioggia dalle Alte Maree che ricordiamoci sono quattro anni che salvaguardano il centro storico di Chioggia dalle Alte Maree ricordiamocelo sempre questa cosa ma oltre a quello è stato anche fatto tutto quel lavoro del combinamento delle fognature e anche per quanto riguarda il rifacimento di larghi tratti dell'acquedotto e quindi con tubazione più nuova rispetto a tubazione che avevano addirittura 50-60 anni detto questo c'è questo accordo di programma che non è ancora stato formalizzato che per quanto riguarda ci sono i quattro ponti che sono Ponte Caneva Zitelle Filippini e Sant'Andrea come dicevo ponti che devono essere ben ristrutturati però l'accordo di programma c'era sembra che i fondi addirittura c'erano tutto questo fa parte di un accordo di programma che non è ancora stato formalizzato all'interno del quale ci sono anche la realizzazione degli ultimi 100 metri di corso del popolo che è qua vicino ecco quindi c'è la nuova amministrazione noi vi proponiamo queste immagini speriamo che il nuovo consiglio comunale e i nuovi assessori vengano informati e riescano a prendere in mano la situazione molto velocemente ripetiamo da quello che sappiamo i fondi per la ristrutturazione di questi punti erano stati stanziati che fine hanno fatto questi soldi? Punto di domanda? ci sono? Grazie a tutti. Grazie a tutti.